Ciao a tutti, sono Gil Beat e approfitto del fatto che appena finito saremo per parlarvi del problema che affligge la musica italiana. Se vi recuperate un mio vecchio video nel quale vi spiego come mai il mercato della musica italiana fa schifo, capirete un attimo che la musica italiana ha dei problemi. Perché la gente non ascolta la musica italiana? Io personalmente, per esempio, ascolto pochissima musica italiana. Ma perché? Perché la musica italiana contemporanea mi fa cagare. Mi fa cagare tantissimo. Perché? Perché non è musica. Non ci sono più musicisti. Ho ascoltato un po' delle canzoni che hanno presentato questo Saremo, anche quelle del Saremo scorso e quelle del Saremo prima, e hanno tutto in comune una cosa. Sono testi. Punto. Non c'è musica. Praticamente, a mio parere, sono dei poeti che non vendendo più con la poesia, cosa hanno fatto? Ho detto, ma quasi quasi faccio il cantante. E si sono messi a scrivere canzoni. Ma in realtà, se voi prendete quei brani, ci togliete il tizio che parla. Non sono cantabili. Per esempio, se voi prendete Alba Chiara di Vasco Rossi e cantate il primo pezzo, il primo pezzo è la canzone. Se fate la stessa cosa con 29 settembre, è uguale. Voi cantate la prima strofa e a volte non serve neanche cantarla. Basta fare... E vedrete che quella è la canzone. Stessa cosa con Certe Notti di Ligabue. Se voi prendete un brano contemporaneo, per esempio prendete quello dei Maneskin, che ha vinto, provate a cantarlo e non cantate niente. Perché? Perché quel brano non è fatto di musica. È fatto di testo. È un brano testuale. E così, con un sacco di altre canzoni, fate la prova, prendete, provate a cantarle e non riuscite a cantarle. Saletele a fare ne 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 col naso. Perché? Perché si basano sul testo. Hanno scritto un testo. Alcuni in rima baciata perché hanno detto Ah, io sono un grande poeta e uso la rima baciata che è una cosa veramente terribile fare le canzoni in rima baciata. E quindi poi hanno deciso di metterci sotto degli accordi. Accordi messi a caso. Cioè, se tu togli il testo ci puoi ricantare sopra qualcos'altro. E questo è il problema. Non c'è grande musica. Adesso addirittura a quei Maleskin c'era qualcuno che diceva Ah, ha vinto il rock. L'ho ascoltata stamattina, quella dei Maleskin, perché ho chiesto ad Alexa chi aveva vinto. Mi ha detto quella. Ho detto, vabbè, riproducila e fammela sentire. Sì, ha iniziato roccheggiante e poi è partito uno a parlare per i cavoli suoi. Il ritornello l'ha fatto urlando barolacce e cose varie. Basta. Cosa c'è di rock lì dentro? Non c'è niente. E mi è meravigliato anche sentire Piero Pelù che diceva la stessa cosa. Cioè, Pelù che è riuscito a rendere italiano il rock, perché i Litfiba sono stati un grandissimo gruppo, va a dire sta cosa. A me mi è spiazzato. Forse non l'ho capito io, perché sicuramente Piero Pelù se ne intende più di me. Però dal mio punto di vista, ripeto, io sento semplicemente dei testi con delle musiche di sottofondo sotto. Non sono canzoni. E per quello che, secondo me, la musica italiana recente, quella contemporanea, fa cagare. Infatti, se vi ricordate, quando aveva vinto Gabbani, con lì la canzone quella della Scigna, quella era molto più musicale, cazzo, ma tantissimo rispetto alle altre. E' ovvio che avrebbe vinto lui. Cioè, quella era una canzone poi stupida, strana, un po' piacere o non piacere, per carità. Però quella musicalmente era molto meglio di tutto il resto che c'era. E così. Tutti i Sanremo sono così. Tutta la musica italiana contemporanea è così. E sono testi con accordi buttati a caso sotto, giusto per avere un accompagnamento. Detto questo, io non so se questa cosa verrà condivisa, sicuramente qualcuno mi dirà ma no, ti sbagli, eccetera, eccetera. Secondo me no. La musica italiana contemporanea fa cagare. Fa cagare, fa cagare tanto. Perché non è musica. Non è musica. Non ci sono più grandi musicisti. La musica è qualcosa che aggiungi. Sono quattro accordi che monti sotto dopo che hai scritto un testo più o meno bello. Perché vi assicuro, il rima baciata la sanno fare tutti. Dai. Il testo di rima baciata. Ma che roba è? Ma sono le poesie delle elementari quelle in rima baciata. Cioè, ho sentito poesie molto più belle senza la rima baciata, ragazzi. Cioè, è uno schifo, è uno schifo, è uno schifo, è uno schifo. E mi dispiace perché io sarei il primo ad ascoltare più musica italiana se fosse decente. Beh, cioè, non è quello. Come altre cose italiane le prenderei volentieri se fossero decenti. Ma fan cagare. Eh, che vuoi che ti dica. Uno va sulla concorrenza. Va bene. Non ho fatto troppi nomi di cantanti, ok? Perché poi i gusti personali sono personali. Cioè, esistono cantanti che magari non piacciono. Per esempio, a me non piace Ramazzotti ma molte canzoni di Ramazzotti sono molto meglio della merda che senti a Sanremo, ragazzi. Ve lo assicuro. A me non piace, eh. Non mi piace proprio quel cantante lì perché è uno che canta con le adenoidi. Quindi, questo è quello che avevo da dire. Magari non è un granché. Però volevo prima o poi togliermi questo sassolino dalla scarpa. Vi saluto. Non ho altro da aggiungere. Questo è tutto. Alla prossima. Ciao!